Fornire fuoco di supporto contraereo. Fornire fuoco. Forze nemiche in vista. Fornire fuoco di supporto. Fornire fuoco di supporto. Fornire fuoco di supporto. Fornire fuoco di supporto contraereo. Fornire fuoco di supporto. Fornire fuoco di supporto contraereo. 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 Fornire fuoco 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 contraereo. Grazie. 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 A tutte le unità richiedo fuoco di supporto. Grazie. Generatore di fumo avviato. Sopralimentazione attivata. La corazzata nemica sta colando a picco. E lasciata cortina fumogena. La corazzata nemica sta colando a picco. Sovralimentazione disattivata. Problema risolto, signore. I nemici stanno per vincere. A tutte le unità procedete verso la cattura di quell'area. Concentrare il fuoco sul bersaglio indicato. Sei l'ultima speranza. Sopralimentazione attivata. l'incrociatore nemico affondato. La battaglia terminerà tra cinque minuti. Rilasciata cortina fumogena. Sopralimentazione. Sopralimentazione disattivata. Sopralimentazione disattivata. Caccia torpediniere nemica colato a picco… Sopralimentazione disattivata. Nemgere la cattura dal glo Alberta mod migliorale. Sopralimentazione disattivata! Grazie a tutti Abbiamo distrutto una corazzata dei miei Grazie a tutti